In questo video vi farò vedere come scrivere accanto a un'immagine Quindi dobbiamo andare su inserisci, intanto andiamo a inserire l'immagine Andiamo su immagine, da file, andiamo nella cartella dove abbiamo l'immagine che vogliamo intanto inserire E la selezioniamo, la apriamo E lui ce la va a inserire all'interno del testo Dopodiché se vogliamo che, ad esempio, la mettiamo a sinistra Andiamo ad inserire l'immagine qui Vogliamo che questo testo scorra accanto all'immagine, non salti In questo modo Clicchiamo con il tasto destro sopra l'immagine Dopodiché andiamo su scorrimento e clicchiamo su intorno In questo modo, come vedete, la scritta correrà intorno all'immagine e non la salterà come prima Se andiamo a spostare l'immagine, cambia e andrà dall'altra parte Come vedete funziona anche in questo modo Mentre se vogliamo che la scritta scorra solo dalla parte più grande, dove c'è lo spazio maggiore Andiamo di nuovo su scorrimento, quindi tasto destro del mouse, scorrimento, scorrimento dinamico In questo modo lui va a riempire solo la parte dove c'è maggior spazio e lascia vuota l'altra parte Poi, per quanto riguarda l'ancoraggio, ho fatto un video sull'ancoraggio, su come posizionare l'immagine Su come si deve spostare l'immagine rispetto al testo Se volete guardatelo, su come ancorare un'immagine su OpenOffice Quindi per questo video è tutto e alla prossima